Ennesima vittoria esterna dell'Acqua e Sapone Unigrosse che in trasferta, tranne il pari a Pesaro, le ha vinte tutte realizzando 56 dei 96 gol complessivi. Una faticaccia, stavolta a Mantua contro, va detto, un ottimo quintetto, ma contava vincere in attesa del turno infrasettimanale di stasera, quando alle 20 al Palarigopiano se la vedrà con l'Eboli, più 18 punti della capolista nera-azzurra sui campani battuti 5 a 2 in terra loro. Pure alle 20 di stasera incontro proibitivo sulla carta per la Colormax Pescara a Pesaro, ma la squadra di Palusci vive sugli ali di un entusiasmo ritrovato dopo lo splendido colpaccio 3 a 2 contro il Forte Padova. Tre punti che, in concomitanza con altri risultati, rilanciano Coco e Compagni in un'area respirabile. Per la cronaca tra i pali, il giovanissimo, 18 anni Federico De Luca, esordiente da applausi contro i Veneti per l'espulsione e conseguente squalifica di Mazzocchetti, ferma l'A2 in B rinviato per il Covid il big match tra la Real Den Montesilvano e la capolista Molfetta, donne bloccato sull'1-1 in casa il Montesilvano dal kick-off, mentre in A2 va segnalato lo scatto in vetta solitaria del Francavilla, che espugna anche il campo del Sabina Lazio 9 a 3, mentre perdono in casa il Floride Pescara 1 a 2 col Chiaravalle e l'Orione Vezzano 1 a 3 con il Santa Maria Nuova.